Prevenzione in Rete, gestito da Eureka Cooperativa Sociale, è un servizio online rivolto in particolare ad adolescenti e giovani adulti tra i 12 e i 35 anni. L'obiettivo è informare correttamente sulle droghe e sui loro effetti nocivi, anche attraverso i social network e concorsi artistici online. Il servizio prevede anche l'assistenza psicologica con un forum sul web.